Scambiare dei libri con degli sconosciuti è ormai possibile grazie alle cassette per lo scambio gratuito. A Firenze ce n'è una in più, al giardino dell'Ippi, in via Pietro Fanfani. L'hanno realizzata gli utenti in messa alla prova. L'iniziativa, denominata Biblioteca in Comunità, è realizzata appunto da APAB in partenariato con Aleteia. Rientra in un progetto che si propone di aumentare l'efficacia della giustizia alternativa attraverso tre parole, mediazione, riparazione e formazione. La messa alla prova ci consente di intervenire su una vasta categoria di persone, dalle più varie professionalità. Si va dall'operaio all'imprenditore e dal più ampio range di età, perché si va dai giovanissimi ai pensionati. Il Comune Cirriede l'avevamo sempre detto, siamo partiti appunto dal quartiere 2 e 3, adesso siamo sul 5 e poi proseguiremo anche sull'1 e sul 4. È un bel progetto di inclusione sociale, anche cura delle piccole cose e quindi fa piacere vedere che anche il volume è aumentato. I cittadini potranno prendere da qui un volume, leggerlo e se vorranno darne di provi. I primi a farlo sono stati il giornalista Jacopo Storni e lo scrittore Alessandro Lopresti, che hanno lasciato all'interno della casetta dei loro titoli. Su ogni struttura è installata una targa con una frase evocativa, non aver paura di voltare pagina perché c'è sempre un libro nuovo che ti aspetta. Alessandro Lopresti